Audio Jungle Audio Jungle Nuova edizione di Social Pharma News, ben trovati. In apertura parliamo di ricetta elettronica che arriva inaspettatamente anche in Campania con una partenza retrodatata a impartirla un decreto pubblicato sul bollettino ufficiale di lunedì con il quale la Regione ha disposto il passaggio alla ricetta digitale su tutto il territorio con decorrenza 31 ottobre, ossia tre giorni prima. E come se non bastasse, né farmacie né medici di famiglia erano stati avvertiti per tempo del provvedimento. Una dimenticanza non proprio veniale, visto che finora sulla dematerializzazione la Campania non ha neanche avviato la fase sperimentale. Appena letto il decreto abbiamo subito chiesto l'UMI alla Regione, spiega a filo diretto Michele Di Iorio, Presidente di Federfarma Campania, e c'è stato spiegato che il provvedimento doveva uscire per necessità legate all'appalto dei servizi di verifica sulle ricette cartacee. Torniamo a parlare di caso Stamina. Un decreto del Ministero della Salute chiude definitivamente la sperimentazione del metodo Stamina. Il provvedimento prende atto delle conclusioni del nuovo comitato scientifico che si era espresso negativamente sul protocollo di Davide Vannoni. Il decreto ministeriale è stato già trasmesso alla Stamina Foundation. Il parere negativo è stato espresso all'unanimità dal comitato scientifico che ha affermato che nel metodo non sussistono le condizioni per l'avvio di una sperimentazione con particolare riferimento alla sicurezza del paziente. Partirà nel dicembre 2015 il primo trial clinico su pazienti con gliomi cerebrali per la valutazione del tumor paint. La molecola è in grado di legarsi alle cellule tumorali e di illuminarle rendendole così distinguibili dal tessuto sano. Il via libera alla sperimentazione è appena arrivato dalla Food and Drug Administration. La proteina si chiama tumor paint BLZ100 ed è stata sintetizzata a partire da una clorotossina estratta dal veleno del pericolosissimo scorpione giallo. Parliamo di ricerca. I farmaci anti-infiammatori potrebbero risultare utili nella cura della depressione. Da una nuova revisione sistematica e meta-analisi di studi clinici randomizzati pubblicata su JAMA Psychiatry e condotta da un team di ricercatori della AORUS University in Danimarca e di altri istituti accademici danesi, statunitensi e canadesi è emerso che alcuni trattamenti a base di farmaci anti-infiammatori hanno effetti antidepressivi. I licenziati hanno analizzato un totale di 14 studi internazionali che riguardavano l'uso di farmaci anti-infiammatori non steroidei sia in monoterapia sia come trattamento aggiuntivo e quattro inibitori delle citochine in monoterapia per un totale di 6.262 pazienti coinvolti. Adesso parliamo di influenza. A favorirla maggiormente sarebbe proprio lo starnuto che può sprigionare nell'area fino a 16.000 particelle di virus influenzali e infettare così gli altri. Soprattutto nelle zone chiuse come l'aereo il rischio di prendersi una brutta influenza è relativamente elevato. Attraverso calcoli matematici gli studiosi hanno evidenziato come si muove la nube di virus dapprima sopra la testa dei vicini di posto del passeggero che ha starnutito poi all'indietro sui lati. Infine gli agenti patogeni scendono sul pavimento per poi esplodere nuovamente a causa del sistema di ventilazione e diffondersi tutta la cabina dell'aereo mobile. Bene è tutto per questa edizione, appuntamento a martedì della prossima settimana. Buon weekend!